Uno vorrebbe solo fare dei contenuti carini a tema autunnale, ma il meteo decide che a metà settembre è il momento migliore per fare 32 gradi. Ciao Cactus e benvenuti o bentornati in questo nuovo video. Non sono solita fare TBR, esattamente, quindi perché siamo qui oggi? Siamo qui oggi perché credevo di essere uscita dal blocco del lettore, ma in realtà non sto leggendo. Penso, dipenda dal fatto che qua in questa casa non ho ancora trovato un punto comodo per leggere, e quindi non so dove... il mio cervello non connette e non gli viene voglia di leggere. Cercando di superare questa cosa ho visto che comunque farmi una lista, tipo quella per i libri dell'estate che ho anche finito, vi lascio qua la TBR e qui il recap perché ci sono dei libri veramente belli dentro, quindi andatevi a rivedere il recap per un'idea per spingermi a finire questa lista e soprattutto la mia challenge di lettura che è ancora in alto mare. È una TBR realistica? Assolutamente no. Qua in mezzo ci saranno non so quante pagine, ma mi piace darmi un po' di varietà, così da scegliere come fallire miseramente. Prima di partire però vi chiedo quali sono i libri che voi avete in TBR per questo autunno, quali libri volete assolutamente leggere entro questo autunno. E intanto iniziamo. Il più importante l'ho messo qua sotto perché questo libro aspetto di leggerlo ad Halloween da più o meno tre anni. Sto parlando di Charles Dickens da leggersi a Libro Unire, che dovrebbero essere dei racconti dell'orrore, del terrore, che ogni anno dico lo leggo ad Halloween e non lo leggo mai. Sapete cosa vi dico? Qui lo dico e qui lo nego. Di questo libro farò un reading vlog di lettura ad Halloween. Forse no, comunque lo leggerò entro Halloween, ve lo prometto. Poi abbiamo Amsterdam, Ian McEwan, che pensavo sarebbe stata un'ottima lettura per iniziare, ma l'ho riniziato in questo esatto istante e mi sono ricordata perché l'ho abbandonata la prima volta, perché in realtà non è così cicciotto, cioè sono 150 pagine, ma mi annoia mortalmente. Non so se è colpa mia o cosa, io con McEwan ho un rapporto un po' strano. O trovo i suoi libri dei capolavori, oppure li trovo dimenticabili. Questo invece in realtà non riesco proprio neanche a finirlo, cioè non riesco proprio a arrivare oltre pagina 20, tipo. Non so, forse non è il momento, vedremo se riusciremo mai a leggerlo. Quindi per iniziare a riprendere e a leggere ho deciso che potrei provare con lui Mortima senza esagerare. Me l'ho inviata la EO Editore dopo che ho visto la trama, soprattutto dopo che il loro ufficio stampa mi ha detto che poteva veramente tanto piacermi, conoscendo i miei gusti. E quindi sì, lui è un libricino piccolo piccolo che potrebbe essere l'ideale per rilanciarmi e scegliere un punto di lettura in questa casa, Mortima senza esagerare. Mi rendo conto che non ho detto niente delle trame di questi libri perché non le so, a parte per Amsterdam che conosco l'inizio, ma non si capisce doveva parare, ovvero la morte di una ragazza in modo improvviso, con una serie di personaggi che l'hanno conosciuta molto pinabili intorno al funerale. E lì è tutto quello che ho letto, quindi di più non vi so dire. Mentre questo dovrebbe essere molto ironico e divertente, ma credo che ve lo racconterò breve su Instagram perché è proprio piccolino piccolino. Continuiamo con un libro che invece avevo iniziato a leggere, l'ho abbandonato, ma credo riprenderò a breve, ed è Dave Eggers, l'opera struggente di un formidabile genio. L'ho abbandonato semplicemente perché l'avevo dimenticato a Genova e poi l'ho riportato qua, ma intanto stavo leggendo altri libri, quindi l'ho lasciato lì, ma mi sembra uno di quei libri che può piacermi davvero tanto. Non so se dopo un po' diventerà stucchevole, ma la scrittura è molto divertente. Ricorda leggerississimimamente Adam Chambers, è molto scorrevole, molto ironica, molto divertente. Potrebbe diventare noiosa in brevissimo tempo, ma confido di no, confido di no. Il primo, che in realtà è un libro che dondola tra l'autunno e l'inverno, è La storia di Elsa Morante. Mi fa il terrore, mi terrorizza, c'è uno sul Kindle, almeno non mi rendo conto di quanto è grosso questo libro, ma è uno di quei libri che secondo me può sorprendermi, visto che anche il Conte di Montecristo è molto inquietante dalla mole, però in realtà è un libro piacevolissimo che non ti rendi neanche conto di quanto hai letto. Confido che la storia, visto quello che mi avete detto voi Cactus più e più volte, sia esattamente così e quindi è solo da trovare il coraggio di iniziare a leggerlo e sono comunque contenta di averlo in digitale piuttosto che in cartaceo, perché in cartaceo è gigantesco. E ho iniziato questo video con una clip che non ho messo, che vi rifaccio adesso. Sono tutti libri che avevo già in libreria, che ho comprato da breve o meno, non importa, sono tutti libri che ho già in libreria, perché Giulia, Giulia, quando finisci questa TBR, guardami negli occhi, qualunque libro tu abbia detto dimmi che non ne hai comprato, dimmi che non hai comprato nuovi libri, per favore, per favore, a meno quelli delle due challenge, per favore, non farlo. Ecco, esattamente, questo video è una falsità, perché oggi ho proprio aggiunto un libro in lista che voglio assolutamente leggere e comprare, anche se è carissimo rispetto alle pagine, ma spero per la qualità, me l'avete consigliato voi su Instagram. L'Instagram è l'uomo che voleva essere colpevole, che dovrebbe essere un simil distopico, o un distopico, perché ne abbiamo parlato su un ask su Instagram ed è uscito fuori questo nome, su, appunto, consigli di distopia, perché i distopici classici li ho letti praticamente tutti, e cercavo nuovi consigli, mi avete consigliato questo, e devo averlo, devo averlo, purtroppo usato non lo trovo, quindi dovrò spendere questi fantastici 15 euro. E poi abbiamo due libri segreti, magici, che voi scoprirete più avanti, che non so se comprerò, se riuscirò per sbaglio ad accapparrarmeli in biblioteca o a farmi ripestare da qualcuno, però sono due libri di cui vorrei fare una Reading Log Challenge per vedere cosa ne penso. Sono due titoli molto, 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 molto conosciuti che io non avrei mai letto, ma che voglio provare. No, in realtà, forse sì, però non sono per niente convinta e voglio farlo con voi. Dopo questo entramezzo, passiamo a... continuiamo, continuiamo con i libri fisici che ho, questo assolutamente è da leggere. Anne Bronti, Anne è l'ultima sorella che mi manca da leggere, Emily e Charlotte, ho letto tutta la loro bibliografia di romanzi. Sono in lutto, sono fortemente in lutto, sono in lutto anche perché la Fazzi non mi fa le edizioni di Jane Eyre della Fazzi, io ho tutte le edizioni di Charlotte Fazzi, ma manca il Jane Eyre, io la sto aspettando, finché non arriva io non le voglio più vedere. Anne Bronti, questo libro che l'ho comprato da Shakespeare and Coe a Parigi, di solito tento di comprare un libro ricordo in una libreria inglese, ogni viaggio che faccio la Shakespeare and Coe era famosissima, quindi non potevo proprio esimermi dal fare questa cosa. Appena l'ho visto l'ho comprato subito istantaneamente perché voglio appunto leggere tutto delle sorelle Bronti e questo libro che è, non so neanche pronunciare bene in inglese, che è The Tenant of Winterfell Hall, è da tanto che non leggo in lingua, ma non dovrebbe essere un problema, solo che ovviamente andrò molto più piano del solito. Quindi voglio leggerlo assolutamente, i libri Penguin sono una delle cose più belle che io abbia mai visto, ci sono addirittura, questo addirittura ha il segnalibro dentro, questo è per l'autunno, è proprio autunno, cioè guardatelo, è autunno. Poi abbiamo le scommesse, tipo questo. Questo è un libro che ho iniziato a leggere proprio l'autunno scorso, fine estate d'anno scorso, Cronaca di una morte annunciata, di Marquez, io non ho mai letto nulla. Mi ricordo che l'avevo iniziato a leggere anche questo in minuscolo, ma non l'avevo finito, perché? Perché non mi piaceva probabilmente? Probabile, però magari un anno dopo è arrivato il suo momento. Insomma, essendo libri che sono lì da un po', c'è un motivo perché sono lì da un po', diciamo così. Invece una new entry è stato Philip Crot con Pastorale Americana. Signori miei, io ho sbagliato, ho sbagliato perché dovevo prendere il lamento di pornoi, non Pastorale Americana. Ho trovato il lamento di pornoi usato? Assolutamente no. E quindi a questo punto ci leggiamo Pastorale Americana tutti insieme, sperando che mi piaccia. Avevo letto La macchia umana e non l'avevo mai finito, perché proprio non mi era piaciuto. Probabilmente io e Rot non siamo fatti per stare insieme, purtroppo, ma entro in questo romanzo a mente libera. Non mi ricordo neanche più La macchia umana di cosa parlasse. Questa è una delle sue opere più famose e quindi spero che mi piaccia, ma lo scopriremo. Ultimo titolo che ho messo in lista, però insomma può finire anche a dicembre tranquillamente, è Le due città di Charles Dickens. Un libro che voglio leggere da veramente tantissimo tempo, in questa edizione assolutamente orrida della Burr, madonna mia che brutte, però insomma l'avevo iniziato ed era bellissimo, poi l'avevo abbandonato per un altro titolo, ma so che il contenuto mi piacerà, perché generalmente Dickens mi piace molto, quindi. E questo era tutto signori per la mia TBR autunnale. Più la guardo più rido, perché cioè non è possibile. Però aspetto di sapere le vostre qua sotto, aspetto anche che inizino a fare finalmente i 20-18 gradi che ci meritiamo. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao Cactus! Ciao! Grazie a tutti.